Un impianto storico, sempre nel cuore dei tifosi di Granata per i tanti ricordi che riporta alla mente per quella data, il 3 giugno del 90, che Sanci ritorna in B della Salernitana nel giorno dell'ultima partita in quello stadio. Il donato vestuti edificato su un'area privata che fu concessa al comune con lo specifico impegno che non sarebbe mai dovuta venire meno la destinazione per l'uso sportivo, vive una condizione di abbandono e degrado nonostante continui ad ospitare numerose società ed atleti. Atletica, scherma, pugilato, football americano, basket, pallavolo sono solo alcuni degli sport che tra Prato, Pista, Palestra e su tutte la Senatore hanno trovato sfogo in una struttura polifunzionale ma certamente non moderna. Ieri il sopralluogo della commissione presiduta dal consigliere Rino Avella alla presenza di tanti esponenti della maggioranza ma anche di alcuni rappresentanti della minoranza, Lambiase e Pessolano, ha incontrato alcuni dirigenti delle società sportive prendendo visione delle condizioni in cui verse il vestuti da anni, privo dell'agibilità per la tribuna, ad esempio, cosa che da sola impedisce di organizzare eventi sportivi di una certa rilevanza. Nei giorni scorsi i tifosi d'amministrazione comunale hanno invitato anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ad interessarsi della questione ma per ora sono altre le priorità e le intenzioni del padron Granata che vuole creare un centro sportivo in città o nelle zone limitrofe. Per ora dunque al vestuti si metterà mano nei limiti delle possibilità e delle risorse disponibili. Lo ha detto chiaramente il presidente della commissione sport di Rino Avella che auspica per il futuro interventi più importanti per ridare in tutto e per tutto dignità e centralità nella geografia dello sport cittadino allo storico ed amatissimo Donato Vestuti. Sono interventi che riguarderanno le minime manutenzioni perché certamente noi oggi come commissione siamo qui a verificare le cose minime che si possono fare perché abbiamo una disponibilità grazie all'impegno anche del presidente Polverino della commissione bilancio abbiamo raggranellato un po' di soldi per far sì che qualche manutenzione partendo dal paladolimiri e tutta l'impiantistica sportiva in questi mesi verrà realizzata questa manutenzione minima per far sì che le società sportive possano operare con più degnità. Innanzitutto mi confronterò con la commissione. Abbiamo fatto una ricognizione importante dalla palasenatore alle palestre qui che fanno sport di taekwondo e boxe e quant'altro. Cercheremo di capire quali sono le priorità per far sì che i locali danno dignità agli atleti e soprattutto per far sì che lo sport venga fatto in sicurezza. A questo spero che come stavo dicendo prima l'amministrazione possa sfruttare questi finanziamenti del PNNR che sono dei finanziamenti che possono essere giustamente calzati anche per questa struttura che ricorda la nostra infanzia, sta nel centro della città e si spera oggettivamente che questo stadio ritorna ai vecchi e antichi splenduri. Io, nel mio pensiero personale, mi auguro che anche la Salernitana dopo l'intervento di Iervolino possa almeno decidere in questo storico stadio di poter almeno una volta ogni tanto fare l'allenamento. E questo è un piacere che noi tifosi sia della Salernitana ma degli sport in generale desideriamo che questo stadio ritorna ai vecchi e gloriosi splenduri. Grazie.